A partire da oggi è consentito il ritorno in presenza fino alla terza elementare, oltre per le classi dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, i bambini e i ragazzi con bisogni educativi speciali. È quanto disposto ad un'ordinanza che sarà firmata domani al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L'unità di crisi si è riunita venerdì pomeriggio per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno in presenza nella scuola e per decidere la linea da seguire. Non è consentita la riflessione scolastica per evitare momenti in cui i bambini possano stare a contatto senza mascherina. Intanto si procede a predisporre un monitoraggio capillare. È dato mandato alle ASL di distribuire ai medici in medicina generale test antigenici per il controllo della situazione dei contagi, del personale della scuola, docente e non docente, con priorità per chi già è impegnato nella didattica in presenza. I genitori di Torre e del Greco alle nostre telecamere hanno manifestato tranquillità sul ritorno fra i banchi dei figli. Anzi, molti sperano in un ritorno completo alla didattica in presenza per tutte le classi, di ogni ordine e grado. Forse De Luca è un po' esagerato, poteva fare entrare terza, quarta e quinta oggi tranquillamente delle elementari e proprio seguire con il suo programma fino all'ingresso delle superiori il 25. Quindi lei crede che si poteva anche accelerare un po' il tempo d'ingresso? Sì, perché non vedo la differenza dal far entrare solo una classe per volta. Per me è una grandissima cosa che sono rientrati i bambini a scuola, perché a casa per loro era una brutta cosa. Cioè non riuscivano proprio a capire il concetto della scuola, se era perso tutto. Una didattica che sicuramente era molto differente, quella da casa che a volte non riusciva neanche a essere così efficace come quella in presenza. Certo, sì, perché in presenza è un'altra cosa. A casa se ne approfittavano dei genitori, quindi non rispondevano mai. La didattica a scuola è un'altra cosa. C'è tanta paura e tensione, però io sono per il ritorno a scuola, perché la didattica a distanza ha fatto poco. Per fortuna c'era, ma poco. Ritorno a scuola rallentato, troppo veloce? Noi vediamo da un'altra città e la scuola lì non ha mai mai chiuso. Venire qui e trovare chiusa la scuola per noi non è stato facile. Rientro a scuola, oggi rientrano le classi terze delle elementari. Rientro troppo veloce o troppo lento? No, sicuramente lento. È stato un bene che siano ritornati perché i bambini hanno perso proprio tutto quello che era la scolarizzazione acquisita in questi tre anni, nel nostro caso, perché i nostri bimbi stanno in terza elementare. Quindi è stato piuttosto lento. La didattica a distanza che appunto non ha le stesse caratteristiche di una didattica in presenza, soprattutto per la scuola elementare, che è fondamentale. Noi abbiamo degli ottimi insegnanti che comunque ci hanno dato tutto il supporto possibile, ma comunque l'insegnamento a distanza, e ce lo conferma la signora, che un insegnante non è l'ottimum. Quindi siamo contenti del rientro. Spero che questa condizione coinvolga anche gli altri gradi, perché veramente questi bambini, ma poi i ragazzi, hanno bisogno di andare a scuola, hanno bisogno del contatto con gli insegnanti, del contatto con i loro coetanei. Sono una nonna e preghiamo tutti i giorni per questi bambini che ritornerebbero alla normalità, perché non è una brutta cosa che hanno avuto per loro. Quindi loro dicono tutti i giorni, nonna, ma quando passa? Noi ripetiamo sempre, passerà, nonna, passerà. Verrà il giorno che sarete tutti assieme con gli altri bambini, perché i bambini ne stanno soffrendo molto di questa cosa. Dal punto di vista di un docente, quanto è stato complicato o diverso approcciarsi ai ragazzi? Allora, è stato non solo diverso, ma molto complicato, soprattutto per chi era abituato con i ragazzi a comunicare e a fare progetti, a fare compiti di realtà. In didattica a distanza è tutto molto più difficile, complicato, perché siamo a casa propria, ognuno nelle proprie realtà e non tutti hanno le stesse possibilità di fare tranquillamente didattica a distanza. Io stessa, con due bimbi piccoli in casa, una che va alla scuola dell'infanzia, ho avuto serie difficoltà nel poter gestire i bambini a casa e me durante la didattica a distanza. E poi, in ogni caso, mi sono anche demotivata come docente, perché stare lontani e dover insegnare una lingua straniera non è per niente facile, perché insegno lingue straniere, quindi non è stata veramente una bella situazione. Grazie a tutti.